Benvenuti in questo video, se vi piace l'intrigo, la mafia e la storia, non potrete perdervi questo video su uno dei più famigerati capi della famiglia di New York, Carlo Gambino. Seguiremo la sua ascesa al potere, i suoi affari criminali e le sue controversie con gli altri capi mafiosi. Impareremo anche come ha influenzato l'organizzazione mafiosa negli Stati Uniti e come è diventato uno dei capi, dei capi. Dunque, non perdete l'opportunità di scoprire di più su questo personaggio leggendario nell'ambiente criminale. Quindi, se siete pronti a immergervi nella vita e nella carriera di Carlo Gambino, non perdete questo video. Carlo Gambino nacque a Palermo il 24 agosto 1902. All'età di 18 anni, venne affiliato alla cosca di Passo di Rigano, di cui già facevano parte il padre e lo zio. A 19 anni, Gambino salì a bordo della nave Vincenzo Florio, per trasferirsi clandestinamente negli Stati Uniti d'America, arrivando a Norfolk nel dicembre del 1921 per raggiungere la famiglia dello zio, Giuseppe Castellano, il quale lo associò alla cosca del mafioso Salvatore d'Aquila. Era il periodo del proibizionismo. E il Gambino cominciò col contrabbandare alcolici per la famiglia che aveva stretti legami con la famiglia di New York, Joe Masseria. Nel 1930 scoppiò la cosiddetta Guerra Castellammarese, tra la famiglia Masseria e il rivale Salvatore Maranzano di Brooklyn. In questa guerra Charles Luciano aveva stretto un'alleanza con Maranzano ritenendolo un leader migliore di Masseria. Nell'aprile del 1931 Masseria fu eliminato mentre pranzava proprio con Charles Luciano. Il nuovo boss dei boss Maranzano, insieme a Luciano ed altri, riorganizzarono e ristrutturarono le cinque famiglie di New York. Gambino venne nominato capodecina dal nuovo capo Vincent Mangano, introducendo nella famiglia il cugino Paul Castellano, che lavorò alle sue dipendenze. Nel 1937 Gambino venne arrestato e condannato per evasione fiscale perché era considerato pericoloso dalle autorità perché controllava numerose attività illecite, scontando però soltanto 22 mesi di carcere perché gli venne concessa la sospensione condizionale della pena. Intanto nel frattempo l'organizzazione ha funzionato senza intoppi, guadagnando molto potere nei sindacati. Nel 1951 il comando della famiglia passò al boss Albert Anastasia, che aveva fatto sparire Vincent Mangano e fatto uccidere suo fratello Philip. Fu in questo periodo che Gambino si associò con Vito Genovese, vice capo della famiglia di Frank Costello. Il loro scopo era quello di eliminare Costello e Anastasia per rilevarne le rispettive famiglie. Nel 1957 Gambino fu nominato vice capo da Anastasia, che aveva fatto eliminare il suo predecessore Frank Scalice. Poco tempo dopo Frank Costello venne ferito di striscio da un killer di Genovese e decise di cedergli il comando della famiglia. Infine Gambino e Genovese decisero l'omicidio di Anastasia, che venne ucciso da due killer, Stephen Armone e Stephen Grammauta, mentre si trovava dal suo barbiere. Ed organizzarono un incontro ad Appalachin, nello stato di New York, a cui parteciparono i rappresentanti di tutte le famiglie degli Stati Uniti per discutere sulla successione di Gambino, nel comando della famiglia di Anastasia e di Genovese nel comando di quella di Costello. Ma la riunione fu scoperta dalla polizia locale, che fermò parte dei partecipanti, compreso Gambino, che però venne subito rilasciato perché non possedevano prove nei suoi confronti. Sotto il comando di Carlo Gambino la famiglia crebbe fino a diventare una delle più ricche e numerose d'America. È stato anche chiarito che la famiglia non si sarebbe più chiamata Mangano, ma ora avrebbe portato il nome di Gambino. Gambino scelse Joseph Biondo come vicecapo ed attraverso lui controllava il traffico di stupefacenti e il gioco d'azzardo. Nel 1962, Thomas, il primo genito di Gambino, sposò Francis Lucchese, figlia di Gaetano, Tommy Lucchese, il capo dell'omonima famiglia di New York. Il legame parentale tra le due famiglie portò ad una ripartizione delle estorsioni e dei furti. All'interno dell'aeroporto di Idlewild, inoltre Gambino acquistò numerose pizzerie, ristoranti e imprese di costruzioni per riciclare il denaro sporco e facilitare le attività illecite, controllando anche i sindacati del porto di Brooklyn. Nel 1963 Joseph Bonanno, capo della famiglia Bonanno, e Joseph Magliocco, capo della famiglia Profaci, consideravano pericolosi Gambino e Lucchese perché avevano appoggiato i fratelli Gallo, nemici di Magliocco, ed incaricarono Joseph Colombo di assassinarli, ma quest'ultimo preferì mettere in guardia i due boss che portarono così Bonanno e Magliocco davanti alla Commissione, e vennero espulsi e costretti a ritirarsi a vita privata cedendo il potere delle loro famiglie. La famiglia Profaci venne. Comandata così da Joseph Colombo e come consigliere venne deciso da Gambino il nome di Joseph Iacovelli. Joseph Colombo fondò la Lega dei diritti civili italo-americana, dove per la quale è stato occasionalmente intervistato e ha tenuto discorsi in grandi raduni. Durante questi comizi, Colombo è stato accostato molteplici volte alla mafia. Gambino e gli altri capi Commissione gli hanno detto di interrompere le sue attività in questa Lega, ma Colombo ignorò le loro richieste. Il 29 giugno 1971 Colombo fu colpito alla testa davanti a centinaia di persone. Nel frattempo Gambino nominò Iacovelli come suo successore. Nel 1965 Gambino retrocesse Joseph Biondo per alcune irregolarità. Nei confronti della famiglia scelse Aniello della Croce come nuovo vice capo e, nel 1967 supportò Carmine Tramunti, come nuovo capo della famiglia Lucchese dopo il ritiro di Gaetano Lucchese. Nel 1969 Gambino venne arrestato per aver organizzato numerose rapine a mano armata ai danni di alcuni camion e l'anno successivo venne accolto un ordine per la sua espulsione dagli Stati Uniti, che però non venne applicato perché i medici di Gambino attestarono che il loro paziente aveva gravi problemi di salute e quindi non era in grado di compiere quel viaggio. Nel 1972 Gambino ordinò l'omicidio di Thomas Eboli, capo della famiglia genovesse che si era rifiutato di restituirgli un finanziamento di 4 milioni di dollari per un traffico di droga scoperto dalla polizia. Inoltre nel 1972 uno dei suoi nipoti venne rapito a scopo di estorsione ed in seguito ucciso. Gambino ordinò a John Gotti e Ralph Galione. L'eliminazione di James McBrutney, uno dei probabili rapitori del nipote, e nel 1974 tentò di fare avvelenare un altro rapitore in carcere. In seguito a problemi di salute, Gambino si ritirò nella sua tenuta di Massapequa, a New York, continuando a dirigere la sua famiglia attraverso il cognato e cugino Paul Castellano, che venne da lui indicato come suo successore a svantaggio del vicecapo Aniello della Croce. Carlo Gambino morì nella sua tenuta, il 15 ottobre del 1976, per un attacco di cuore all'età di 74 anni. Grazie per aver guardato questo video su Carlo Gambino, uno dei più influenti e temuti capi della famiglia Gambino. Spero che abbiate apprezzato scoprire di più sulla sua ascesa al potere, sui suoi affari e sul suo ruolo nella mafia americana. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al canale per ricevere aggiornamenti sui prossimi contenuti. Ci sono molti altri video, quindi assicuratevi di andare a dargli un'occhiata. Grazie ancora per averci seguito e speriamo di vedervi presto per altri video emozionanti.